Procedono al ritmo sostenuto i lavori di restauro di uno dei simboli di Castellaneta, il monumento di Rodolfo Valentino. Deturpato dall'incuria del tempo e da atti vandalici, la statua del mito necessitava di interventi in grado di ripristinare l'immagine originaria e le immagini registrate a cantiere ancora in corso testimoniano i primi interventi effettuati al monumento, dall'abbassamento degli stucchi al ripristino dei colori originari della statua che erano stati in passato coperti da altra pittura, fino ad arrivare ad un'operazione più complessa di ricostruzione del volto di Valentino colpito da una pietra e di parti del corpo danneggiate. Il progetto di restauro del monumento è stato reso possibile anche grazie ad aziende castellanetane come Gimel, GBC ed Edilcos che hanno contribuito alla causa effettuando lavori in economia. Il termine degli interventi, previsto a breve, riconsegnerà a cittadini e turisti un monumento nuovamente degno del mito che rappresenta. Grazie